Musica Bentornato Cutler, bentornata In questa nuova lezione andiamo a vedere come modificare le impostazioni PC L'opzione appunto modifica impostazioni del PC Cosa sono le impostazioni? L'insieme delle sezioni dove puoi visionare ed impostare i parametri relativi al sistema operativo e al computer Come puoi accedere? Naturalmente già l'hai visto, visualizza la chance bar Clicca su impostazioni e individua in basso il pulsante modifica impostazioni PC Cliccaci quindi sopra Si aprirà una sezione molto corposa che nel mio caso in base al sistema operativo sarà PC e dispositivi, account, OneDrive, ricerca e application, privacy e rete Data, ora e lingua Accessibilità e aggiorna e ripristina Alcune di queste impostazioni le potrai avviare anche dal pannello di controllo Ne tratterò numerose ma non tutte in quanto sono moltissime E alcune lavorano con la cloud che normalmente io non utilizzo in questo specifico sistema operativo Nella schermata che si presenta puoi personalizzare l'immagine della schermata di blocco Cioè quella che vedi se usi l'opzione blocca PC Puoi anche scegliere un'immagine per il tuo account o impostare una password grafica per accedere al sistema operativo Nella colonna di sinistra trovi altre opzioni ma partiamo dalla prima PC e dispositivi Entrando in questa zona come vedi ci sarà un tipico menu ad albero nel senso che da ogni sezione si svilupperanno una o più sottosezioni che ti permetteranno di raggiungere un'opzione, una funzione da poter settare Ora potrai accedere in questo caso infatti ad ulteriori impostazioni Con la schermata blocco come in questo caso puoi scegliere l'immagine che visionerai se entri nella zona del blocco computer come scritto qualche riga precedente Oppure potrai scegliere di riprodurre una presentazione attivando o meno questo cursore O eseguire un'applicazione o un programma in background Utile quest'ultima opzione per ricevere notifiche anche se il computer lo tieni con lo schermo bloccato Con la sottosezione schermo invece potrai impostare la risoluzione del tuo monitor Il tipo di orientamento e se hai più monitor anche la possibilità di una visualizzazione contemporanea Cliccando su dispositivi hai in visione i dispositivi collegati in quel momento al pc e potrai anche decidere tramite il tasto relativo di aggiungere qualche altro dispositivo Con la sottosezione mouse e touchpad imposti i parametri del mouse Scegli il pulsante principale a seconda se sei destro oppure mancino oppure mancina Infatti dopo aver selezionato il tasto principale tramite il menu a tendina e il cursore sottostante potrai scegliere i parametri relativi al mouse In pratica l'entità dello scorrimento della rotellina del dispositivo di puntamento Con il pulsante invece digitazione entri nella sottosezione per abilitare o meno il controllo ortografico oppure la correzione Man mano che vai a digitare le parole ed eventualmente anche sottolineare gli errori ortografici che si presentano durante la tua digitazione Invece con angoli e bordi gestisci il passaggio tra le varie applicazioni La prima sezione ti permette di poter visionare le applicazioni sulla barra delle applicazioni una volta che sono avviate Quindi passare dall'una all'altra con estrema semplicità Puoi rimuovere la lista delle applicazioni recenti utilizzate cliccando sul pulsante cancella elenco Invece la sottosezione navigazione degli angoli ti consente di abilitare o meno la visualizzazione degli accessi alle applicazioni Portando semplicemente il cursore del mouse nell'angolo superiore destro oppure passare da un'applicazione all'altra Rapidamente cliccando nell'angolo in alto a sinistra del monitor La successiva sottosezione alimentazione e sospensione ti consente tramite due menu di poter decidere se disattivare o meno lo schermo O mandare in sospensione o meno il tuo pc dopo un certo periodo di tempo Cliccando invece su autoplay puoi attivare o meno l'avvio automatico per i dispositivi o i supporti che verranno collegati inseriti al tuo pc La sottosezione spazio su disco ti fornisce una visione d'assieme dello spazio libero e quindi anche occupato dai vari file e programmi che sono memorizzati all'interno del tuo disco rigido Infine l'ultima sottosezione info del pc ti dà un'indicazione molto generica sui parami del tuo computer Quindi ad esempio l'identificazione del prodotto, il seriale, il tipo di processore, quanta ram hai utilizzato, il tipo di sistema operativo, se è attivato o meno Bene guter, andiamo a vedere la corposa sezione delle impostazioni pc, modifica impostazioni pc Cliccandoci sopra entrerai in una zona molto corposa di questa sezione, giusto al volo In basso a sinistra trovi la possibilità di accedere direttamente al pannello di controllo Al centro puoi selezionare il pulsante schermata di blocco per andare a scegliere quale immagine visualizzare nel caso in cui entri nella modalità blocco computer Oppure potrai semplicemente andarla ad individuare sul tuo computer Tramite questo cursore, attivandolo, potrai scegliere di riprodurre una sequenza di immagini che potrai andare a pescare all'interno del tuo computer Durante la schermata di blocco, qui sotto altre impostazioni relative appunto a questa presentazione che andrai a visionare Da questo menu puoi scegliere dopo quanto tempo e se disattivare o meno la riproduzione della presentazione Oppure andare a scegliere il tipo di applicazione da avviare qualora tu entrassi nella schermata di blocco per mantenere le notifiche attive anche se il computer è bloccato Qui ce ne sono alcune già preselezionate qualora tu volessi andarle a selezionare Se non sono presenti tramite il pulsante più potrai andare a scegliere l'applicazione in base alle tue necessità e al tuo piacere Passiamo alla sezione schermo Qui puoi selezionare la risoluzione dello schermo in base al migliore utilizzo che potrai fare relativo alla qualità del monitor che hai installato L'orientamento se è normale oppure qualora fosse posizionato su una parete verticale oppure sul soffitto potrai scegliere l'una o l'altra visualizzazione Nella sottosezione dispositivi potrai visionare i dispositivi che sono collegati in questo momento al computer oppure aggiungerne qualora non fosse presente in questa lista Tramite la sottosezione mouse e touchpad potrai scegliere qual è il pulsante principale del tuo mouse sinistro o destro se tu sei in mancino oppure destro Tramite questo menu potrai scegliere di quanto muovere la visualizzazione in base alla rotazione della rotellina se di diverse righe oppure diverse schermate Tramite il cursore potrai scegliere il numero di righe oppure se muoverti di una schermata per volta ogni volta che azioni la rotellina del mouse Riposizioniamo a un numero abbastanza semplice Nella sezione digitazione potrai attivare o disattivare la correzione automatica durante la digitazione oppure evidenziare eventuali errore di ortografia durante la scrittura ad esempio su un editor di testo La sottosezione angoli e bordi ti permette di attivare o disattivare la visualizzazione delle icone relativi alle applicazioni di Windows Store Qualora tu ne avessi attivate a più di uno, in questo caso l'hai attivato e quindi avrai in visione come puoi vedere l'icona Invece disattivandola non sarà più in visione come puoi ben vedere Riattiviamola Puoi attivare o disattivare il passaggio da un'applicazione all'altra tra quelle utilizzate di recente Se ne attivassi più di uno, come puoi vedere è disattivata la possibilità di passare tramite questa sezione tra un'applicazione e l'altra che ho già attivato Riattiviamola per un piacere più rapido Come puoi vedere è in visione questa barra che prima non era in visione Puoi cancellare rapidamente l'elenco delle applicazioni utilizzate recentemente Anche qui puoi giocare con gli angoli Per esempio lasciando attiva questa opzione puoi passare da un'applicazione all'altra semplicemente cliccando n volte sull'angolo in alto a sinistro Disattivandolo non è più possibile questa opzione Alimentazione e sospensione Ti permette tramite due menu a tendina di selezionare oppure disattivare Dopo quanto tempo lo schermo possa essere spento oppure il pc passare in sospensione se collegato alla rete elettrica Dalla sottosezione autoplay puoi disattivare Come vedi io lo lascio sempre disattivo Oppure attivare l'autoplay appunto per tutti i dispositivi che saranno connessi al computer Come ad esempio una pendrive Oppure selezionare un'opzione per lo specifico dispositivo che verrà collegato La sezione spazio su disco dopo un calcolo ti dà informazioni sullo spazio disponibile per la partizione che andrai a utilizzare E quanto è parzializzato in base alle applicazioni, supporti e file che sono inserite su questa specifica partizione Potrai anche svuotare direttamente il pc Ed infine l'ultima sezione info del pc ti permette di visionare alcuni parametri relativi al computer Come il seriale, il tipo di processore, la RAM installata e il tipo di sistema operativo in termini di versione e se è attivato Come vedete è una sezione già abbastanza corposa ma più avanti ne tratteremo anche altre Bene, nella prossima lezione continuerò a descrivere questa sezione corposa di modifica impostazioni pc Ora un forte saluto, ciao a presto da Carlo e alla prossima Ciao a presto! Ciao a presto! Ciao a presto!